Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video informativo, una piccola ennesima sorpresa ormai in questo inizio di settembre dove vi ho letteralmente sommerso di video. Un video velocissimo per fare dei ringraziamenti e per darvi delle news riguardo ad alcuni giochi. Desidero ringraziare prima di tutto Siro Ceroni che mi ha segnalato una news a proposito di questo gioco. Siro Ceroni, desidero altrettanto ringraziarlo perché io me lo ricordo bene, lui è stato il primissimo iscritto che ha fatto una donazione al canale per cui lo ringrazio veramente di cuore. Allora, quello che mi diceva Siro è che qui è finalmente arrivato l'italiano. È figo, ovviamente le news non vengono tradotte. Il gioco ve l'avevo portato ad agosto del 2019 ed era un mix tra una sorta di Rimworld, The Sims, perché in pratica potevamo andare a gestire la vita di una colonia di gente sbarcata, con gente comunque in continuo arrivo, ma dove potevamo anche controllare singolarmente ogni singolo omino, diciamo, cliccando e impostando delle interazioni dall'abbraccio all'uccidere gli altri suoi compagni. Contenuti di mod ci sono e poi la possibilità appunto di iniziare con varie modalità. Vi rimando al video, se cercate Founders Fortune Indie Gameplay da su YouTube, troverete il video di un anno fa. Ovviamente faccio una premessa perché magari farò altri video del genere, prendo ovviamente con le pinze, nel senso che adesso prenderemo a vedere anche altre cose che mi avete segnalato. Ovviamente io poi verifico i consigli, verifico le news che mi segnalate, però ovviamente prendetele sempre con le pinze perché magari anche questo gioco può avere ancora qualche stringa non tradotta. Insomma, però, ecco, la news è questa e grazie a Siro. Vi faccio vedere anche un'altra cosa adesso perché è importante mostrarvi quanto è stato aggiornato questo gioco e ovviamente, perdonatemi tutto il casino di desktop e riprese da desktop, calcolate che a luglio è stato rilasciato The Animal Update, quindi hanno aggiunto gli animali. Guardate, poi hanno aggiornato a maggio le professioni, fix, fix, a febbraio hanno fatto la famiglia, la possibilità di avere delle famiglie all'interno, a dicembre hanno fatto l'architettura, cioè questo è una autentica perla da tenere d'occhio perché sarà senz'altro interessante. Il gioco costa 18,99 e insomma direi che, calcolando che ora c'è anche l'italiano, motivo in più per acquistarlo e giocarlo. La seconda cosa che voglio segnalarvi è che Astronir ha avuto già da qualche tempo un aggiornamento doppio a maggio, scusate, a giugno e ad agosto. Cioè, in sintesi, sono state aggiunte delle cose veramente molto interessanti sull'automazione. Quindi Astronir era quel classico gioco che ho fatto anche in live con Mystery Gameplay Channel, insomma che ho portato anche come video io. Sono state aggiunte diverse cose, sensori, duplicatori, insomma tutti i circuiti elettrici. Sono stati aggiunti appunto le repeater anche, la produzione automatizzata e, vabbè, nuovi outfit, insomma, che da c'è a sole. È un gioco anche questo che viene seguito veramente tantissimo dagli sviluppatori bracci automatici, storage container, cioè veramente figo come struttura, come è stato fatto. Power, battery sensor, button repeater, cioè un sacco di roba e con una grafica che io ho sempre ritenuto molto cartoon, ma molto anche carismatica. Desidero inoltre ringraziare anche Tokyo Visio, che ha definito nei commenti, in mia difesa, insomma, di una persona che mi definiva un po' una voce da nerd, e mi ha detto che la voce era rilassante, quindi ringrazio Tokyo Visio, o Tokyo Visio, non so se sbaglio il nickname, grazie mille. E come ultima, ma non ultima, vabbè, mi sono dimenticato probabilmente di ringraziare Silma in Dashie per avermi consigliato Tap Translator, l'app che comunque avete apprezzato, le traduzioni dei videogiochi. Ma Carlo, che mi consiglia un'app aggiuntiva in aiuto a Tap Translator, ed è Borderless, vediamo se la trovo, Magic Borderless, ma anche Borderless Gaming potrebbe essere interessante, però l'app che mi consiglia è questa, tenetela d'occhio, insomma. Nei commenti mi segnalava che quest'app qui, in supporto a Tap, Translator App, quello lì, forza i giochi ad andare in finestra senza bordi, quindi potete tradurre anche, andare a selezionare i testi da tradurre, anche in quei giochi che hanno difficoltà ad andare a tutto schermo. Anche qui, prendiamola con le pinze, perché magari il consiglio è senz'altro valido, probabilmente magari non si adatta a tutti i giochi quest'app, però calcolate che il vantaggio che avete, in quanto clienti di Steam, è che lo acquistate, costa veramente una stupidata, 2.89 compresi 5 euro, arrivate a spendere quasi 8 euro per tradurre i giochi, nel caso in cui non vi trovaste bene, fate l'reso, insomma, 2 euro, vi vengono riaccreditati, e provate magari qualcos'altro. Insomma, qua concludiamo questo primo video di news, così a grandi linee, e fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, ovviamente io penso che potreste anche apprezzare qualche aggiornamento così. Ho tanti video in serbo, sto realizzando diversi video, da quando sono tornato dalle ferie sono piuttosto carico, e tendo a fare più video al giorno, ho visto che siete anche aumentati parecchio ultimamente, quindi mi fa piacere, e come sempre, continuate con, come avete sempre fatto, un abbraccio a tutti, sempre commenti costruttivi, che io apprezzo sempre, ascolto e, se posso, rispondo sempre ai commenti. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!